La partita veramente con capolavoro, Marco un gol diciamo veramente molto molto bello da Cineteca quasi Sì penso di sì, dai mi sono liberato limite dell'aria, ho calciato di sinistro, penso sono venuto fuori un bel tiro mi dovevo far perdonare l'occasione di 5 minuti prima che potevo far meglio, siamo contenti dai Poi dopo un rigore l'ho definito un po' un mezzo cucchiaio, in effetti è stata un po' una conclusione del genere con un pallonetto là sulla destra, il portiere sulla sinistra, il cilicino sulla torta, di una pomeriggio sicuramente importante Sì sì, ho mirato un angolo e è andata bene, il portiere è andato dall'altra parte per cui non ci sono stati problemi è stata, ripeto, una vittoria importante su un campo non facile perché non era in ottime condizioni Senti, un Livorno sicuramente in fase crescente, anche se forse nel primo tempo c'è stato un leggero timore da parte vostra perché è sembrato che non voleste andare fino in fondo perché avete un po' di timore delle ripartenze degli avversari che in effetti in ultima occasione ci hanno messo un po' di difficoltà Sì sì, non era timore, era solamente voglia di attaccare però senza neanche, come hai detto te, prendere le ripartenze Ripeto, il campo secondo me ci ha condizionato un po' perché magari da fuori non si vedeva ma non era in ottime condizioni Abbiamo sbagliato magari qualcosa negli ultimi metri però credo che la nota più positiva sia stata quella di subire poco oggi La nota più positiva è sicuramente quella di subire poco ma la nota positiva è anche quella di aver confermato quanto di buono si era fatto domenica scorsa e anche se non c'è stato, come dire, quel fuoco d'artificio di reti quelle scuole che c'è stata la scorsa settimana Diciamo che forse la squadra che corrente di voi tutti che eravate infortunati oltre ad acquistare una maggiore qualità tecnica, secondo me acquista anche una maggiore fiducia in se stessa quella cosa che forse è mancata in trame troppe partite Sì sì, la fiducia, poi sono i punti che portano alla fiducia io ci metterò dentro anche che cominciamo a conoscersi di più perché alla fine se andiamo a vedere la stessa formazione ha giocato pochissime volte dunque fa infortuni, squaliti, giocatori nuovi e c'è da mettere dentro anche quello ci stiamo conoscendo, stiamo cominciando a rodare un po' i meccanismi e penso che siamo sulla strada giusta Un'ultima cosa Marco, a parte che tanti di voi venite dalla stessa categoria dallo scorso anno però il capitano Nussi ha parlato anche un po' leggermente di non conoscere fino in fondo non aver capito fino in fondo le vere caratteristiche di questa Lega Pro Sì sì, è diversa, è diversa solamente dal campionato Serie B a volte magari c'è meno gioco, magari un pochino più di ritmo bisogna adattarsi velocemente, però lo stiamo facendo